Ragazzi volevo ricordarvi che per appunto i veri Dario Anzonini inserite il mio codice creatore RAMBOTUTTOGRANDE Vi raccomando ragazzi andate nello shop e inseritelo, bello E bello a tutti ragazzi benvenuti in questo video, sono RamboGamerga e oggi siamo qui perché appunto un mio scritto vuole chivarmi delle armi Quindi, guarda là che armi brutte Come dobbiamo fare le armi blu E prova a vederne una e prova a vederne Cominci a prendere, ok? Ragazzi vediamo un po' What? Che è successo? No ragazzi questo è pazzo Allora c'è pazzo Sono tutte legasi Oh forse No vabbè regà Legacy 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 No vabbè regà E' pazzo E' pazzo No ma sei pazzo No ti No è E' pazzo prof Edition Assolutamente E' pazzo Lo